Dove è andata a finire? Ha dovuto ritentare E' il freno nuovo dietro Frenato a Cognente Guarda che lì vado Adosso il presidente Frenato a Cognente Frenato a Cognente E' di lì, è di qua Giri subito e scendi E scendi di qua No qua non la lascio Qua è pericoloso Vedete mi sta atteggiando Occhio perché ti viene ad osso Dai andiamo a fare il diretto lì che ha fatto sgargamella Che è meglio di far solo la roba dita Tanto è in piano Cosa stendi? Non vai a fare il tuo giro Dove vai? Dove vai? Dove vai? E' di qua Sì 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 no l'anello del cargamella l'anello del cargamella e adesso piano piano che si larga fuori un filo via vai e ciao vai questo set perché mi ammazza l'altra volta ora troppo tardi e sei in terza andiamo a fare il giro è un anello del cargamella e quello ha aperto pian pianino però almeno arriviamo alla sorgente apri quando hai la ruota davanti sotto era in terza è vero era in terza non va bene troppo lunga non stare così se non vai su cioè ti dà tanto sotto ma è molla non arriva invece seconda riesce a buttarti su seconda digli l'ho fatta io in terza non volete farla voi in una marcia giusta via vai via cazzo quando c'è il davanti devi andare no no vai via vai a guardarla vai a guardarla non la fai giri via e ormai sei lì cazzo fai lì guarda non devi guardare quando arrivi lì devi tagli e parte se io la guardo dico figa sono in giù eh vedi come fa boom ha detto che gira mi fa quella sensazione di arrivare lì fa no io mi dà la sensazione di arrivare lì fa no mi dà la sensazione di arrivare lì fa andiamo di là andiamo di là ma scendiamo da lì ascolta scendiamo dal torrente e per dopo dovremmo risalire dalla rampa per forza capito no scendiamo dal torrente no scendere non a salire dove stasso non mi interessa dopo dovremmo salire a me il quadrero non mi interessa io scendo da lì io scendo da lì va bene io scendo dal torrente voi fate quello che volete è giù sotto che mi aspetta tu e lui andate per il combino tu e lui portatelo giù eh e lui ci troviamo a salto si devo fare il pezzo qua sotto ma che lo fare io lo fare no io lo fare no non si prendo le pedane con grazie Grazie.